buonasera eccoci qua come state vi è vissuto questo never gonna give you up momento come il titolo never gonna give you up mi sono un attimo incastrato anche come i tasti di una tastiera vale ma non tutti ci sono tastiere con 88 tasti mi pare si è vero forse no buonasera non è vero eri qui eri qui 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 questa serari si fa i sovrani circa cioè un gioco è di sovranitamento e altri due no nel senso seghi 18 perché che stai vivendo sempre il tomintoul whisky un bel whisky tra l'altro amici puzzo ma voi non lo potete sentire questo è il bello di twitch e questo è il bello di twitch è puzzo ma voi non lo sentite non puzzo neanche così tanto in realtà però avrei preferito farmi una doccia ecco che non ho fatto perché detto ah la faccio a quest'ora qui no era questa sera dopo la live cosa è successo dopo la live il fatto che ho detto dovevo anche mangiare dopo la live solo che mi sono scordato di mangiare capito perché non ho mangiato prima della live di solito mangio prima della live oggi ho detto non c'ho voglia mangio dopo la live e dopo la live mi sono scordato di mangiare mi sono fatto i gran cazzacci miei a una certa ho detto eh adesso è proprio arrivato il momento di andare a fare la doccia mi alzo e mi accorgo di avere una fame bestiale detto meglio che mangio la doccia la farò domani eh eh ma perché ero impegnato bambino infatti poi quando non ero più impegnato mi sono accorto di avere una fame bestiale oggi sei luminoso in che modalità tanto mica mi serve lavarmi domani mi serve infatti domani la faccio la doccia però adesso non mi serve quindi vabbè chi se ne frega sentite mica la mia puzza provate ad odorare lo schermo provate ad odorare lo schermo sentite la puzza odate odate qui al centro dello schermo sentite la puzza grazie adrenal non è vero no non è vero non la sentite la puzza l'ora di pixel bruciate dovresti mandare se vi puzza lo schermo ragazzi siete voi che non vi lavate fatevelo dire se sentite puzza non è colpa mia ma siete voi che non vi lavate ve lo dico eh quindi cioè vi siete auto snitchati come come niente ragazzi vi siete proprio auto snitchati tutti quelli che hanno scritto si si sento la puzza che puzza che merda è perché vi puzza lo schermo quindi è un problema vostro vi siete auto snitchati eh cazzi vostri profondo di tiglio e basilico sono una bruschetta cazzi bruschetta ti fai tiglio e basilico bruschetta aglio olio eh sale e pane c'è la ricetta della bruschetta la bruschetta proprio no è arrivato corno scusate niente niente scusate non cerco incredibile oh proprio hai scritto nel momento cioè io non ci credo comunque non è assolutamente possibile questa cosa porca miseria e cioè non può essere un caso ormai ormai non può più essere un caso questa cosa qui prende una fetta di pane mettila sulla piastra proprio quando è fatta togli e ci metti l'olio fine non credo assolutamente non so corno non è fattibile questa cosa ricetta depositata bruschetta bruschetta tradizionale è quella che dico io poi bruschetta bruschetta promodoro all'italiana beh 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 cazzo vuol dire l'italiana l'unica che si chiama bruschetta tradizionale è quella con l'aglio prendete il pane lo brustolite poi prendete lo spicchio d'aglio e lo su tutto il pane poi un filo d'olio e chomp chomp perfezione perfezione meglio col pomodoro è arrivato quello che non mangia il pollo è arrivato stai zitto che in sciro ti cago negli occhi tanto lungo quel filo d'olio quel filo d'olio è stato basta poi dopo lo devi anche spalmare col dito poi è col dito che puzza nella bruschetta più buona è quella con la salsiccia spalmata e messa sulla braccia eh ma a quel punto si chiama crostino cioè che differenza c'è tra crostino e bruschetta ragazzi per me il crostino è la base di tutte poi le cose che ci metti sopra cioè il crostino è quello condito la bruschetta invece è quello olio e aglio e basta certamente le imendiono ma penso sia come dici non lo so è la mia in ipotesi non so non sono convinto di quel che dico il crostino è senza niente no solo il pane la bruschetta è fasta bustolita su griglia o piastra il crostino al forno queste mi sembrano però quelle cazzate da sommelier della cum bella doglia il crostino è quello con il condimento sopra indica wikipedia quindi come ho detto io dogli amoro c'è doglia sì non sono accorto purtroppo devo profogarmi mi è schizzato il schizzo poi purtroppo eeeh ma boh purtroppo vedete devo alzarmi alle 6 e mezza che si fa stasera cazzo ti alzi alle 6 e mezza scusa sei forse coglione Lele non alzarti alle 6 e mezza vaffanculo tutto sabato mi alzo alle 6 e mezza ma vaffanculo l'unico giorno della settimana che puoi dormire mi alzo alle 6 e mezza ma vai a cagare vai io sono sveglio dalle 6 e mezza invece ma oggi venerdì va bene pensa doglia che poco tempo fa bannavamo tutti quelli che salutavano singolarmente le persone in chat avviso eh avviso un vizio un pochino te che fai i turni alle volte al sabato cade la mattina ma per me non è domani pog eeeh mmm beh si non credo Lele faccia i turni non era una scusa doglia ti ho solo avvisato non è non lo facciamo più però perché c'era gente che le gevilacciate era tutto ciao tag ciao tag ciao tag ciao tag e mezz'ora hai rotto i coglioni e non si può vivere così effettivamente succedeva quindi spaccavano i coglioni grande simpatica eh Ari mi hai chiamato? si comunque questa sera i giochi in questione sono dobbiamo vedere con cosa partire perché uno non è detto che lo facciamo però gli altri due voglio provarli abbiamo The King's Dilemma che è un gioco bravo testa di cazzo eh Valentino oh porca miseria ho spaccato il fano The King's Dilemma che è un gioco sulla lunghezza d'onda di Reigns se lo conoscete quello dove Tinder con la carta che sei il sovrano che devi scegliere sì o no alle cose che ti propongono anche questo qui tecnicamente dovrebbe essere così tratto da un gioco da tavolo da quel che dice Ime dove dobbiamo siamo il re e dobbiamo dire sì o no alle cose che ci vengono proposte e poi vedere la storia come si evolve poi un termoracolo del nostro carissimo radioattivo che chiede ho solitario di termoracolo tutti a chiederti robe sul loro futuro ma tu come stai più dritto così di così c'è una curva poi l'altro gioco che abbiamo da provare We Who Are About To Die che è un gioco sui gladiatori che non ho idea di come sia dovrebbe essere una specie di roguelite dove noi gestionale tipo dovrebbe essere dove noi prendiamo il ruolo di un gladiatore e dobbiamo tirarlo più avanti possibile in arena e robe così gestendo su un cazzo cosa svariate dick quindi non non prometto niente però l'ho preso stasera l'ho scaricato lo proviamo e vediamo se poi devo chiedere il rimborso o no radioattivo senza scherzare a parte che penso siamo io e te a conoscerlo ma senza scherzare a me ha dato quelle vibely quindi non lo so l'altro gioco sarebbe ex anima che ce l'ho installato dal 53 non l'ho mai fatto perché ho paura è un giochino di base sarebbe un dungeon crawler in isometrica con la fisica è difficilissimo ma non ho mai intrapreso questo viaggio perché è molto difficile e non si capisce un cazzo ma c'è anche una modalità arena dove fai andare a combattere il computer in sostanza e nelle arene una specie sempre di gladiatoriamento no io non ce l'avevo faccio un sondaggino dai vediamo quale vi interessa di più con cosa partiamo il re che è adrenals che regala attaggami perché ormai i meme regnano così a proposito di re poi gladiatus che non è gladiatus veramente e poi uomini molli due minuti di tempo votate pure ma lo conosco housemeister che in sheer ce lo conosco l'ho visto cos'è però è un non so è che i giochi alla itch mi hanno un po' spaccato le balle vale non puoi manipolare il popolo anche se comunque sono più curioso anche io del the king's dilemma sono abbastanza curioso aspettiamo silenti che svapo boh faccio qui kentucky e burley mentre qui ho virginia virginia e burley credo sempre il burley lo uso come rafforzativo manca poco per il sondaggio votate mi raccomando votate mi raccomando croce com'è buono lei cinese che regala la sub a imemes bene ha vinto il re non lo posso vedere ragazzi mostra tutti e due ha vinto il re con il 58 percentile bene allora partiamo con the king non è detta che gli altri poi li facciamo no l'altro lo vorrei fare perché fa cagare lo rimborso però lo faccio partire non è aperto in realtà metti che non funziona dovrebbe avere l'italiano in realtà spero sarebbe un merda di casino aha il re sì che despair grazie lily floon ha fatto partire il trenino che bella music che non c'entra assolutamente niente con un re della stofas anche questa no no c'è un flautino è della stofas ma se fossero indiani è dello stofas quindi bella però adesso ascoltiamo tutta tutta dico indiani d'america però effettivamente non indiani dell'india è come razzismo oh sì però no mi fanno molto ridere gli indiani che ci fanno i tutorial io li ringrazio perché è sempre loro che ci salva alla vita però questa è una paraculata per non sembrare razzista ecco eh grazie F forse adesso suona un pochino più medievale ecco prima no nuova fordita avvartenza disturbanti di violenza implicita sono presenti riferimenti a schiavitù abuso razzismo violenza fisica abuso domestico suicidio abuso di sostanze violenza sessuale non si limitano di un immaginario cruento sacrifici umani sangue che potrebbe risu... e beh è fantasy quindi quindi è fantasy semplicemente benvenuti nel regno di angst luogo di ardimentose spedizioni cruente battaglie e arcani misteri situato nel continente settentrionale di Lwik, è uno dei regni più vasti del mondo, conosciuto, ma non è l'unico. Il regno di Briri, a nord-est, culturalmente e tecnologicamente avanzato. Il piccolo e povero regno di Sidgla... a sud, con le sue terre avare. La Repubblica di Chiappe, a nord-ovest, che vanta abilità commerciali oltre ogni immaginazione. L'impero Chiasuka, all'estremo est, dove l'imperatore vive nel lusso mentre il suo popolo resta in miseria. Il continente a sud, per lo più inesplorato, è noto solo per il suo selvaggio De Verdez d'Avorio, e per le storie e le leggende narrate dai pochi viaggiatori stranieri avventuratisi fino alle nostre terre. Anchist, ha goduto di alcuni decenni di pace, ma meno di due secoli fa era diviso in molti piccoli regni e tribù di predoni, conquistati con la guerra e uniti grazie alla diplomazia, e incorporati nei secoli come ducati e marchesati. Non si sa molto di quanto accaduto prima di questa età di frammentazione, ma ciò che è noto con certezza è che tutte le terre del mondo conosciuto furono denominate da alcune civiltà perdute attraverso i secoli. Non è chiaro cosa abbia provocato la caduta di tali civiltà. Tu assumerai il ruolo di capo del consiglio, un organo direttivo che governa il nome del re, con sede a Libra, la capitale di Anchist. Prima di iniziare è completo un veloce test per determinare quelle casate che rappresenta maggiormente. Va bene. In tempi di crisi finanziari è lecito sacrificare la coscienza per risparmiare denaro? Eh, sì. Ah, devo tenere premuto. È accettabile limitare certe pratiche religiose in conflitto con la religione ufficiale? In che senso? Ah, la conoscenza era, vabbè, quello era il succo, dai. Eh, ho sbagliato. È accettabile limitare le... Qua certe pratiche in conflitto con la religione ufficiale? Sì, ma le religioni... Chi se la vota? Se un paese confinante viene invaso. Interveniamo in suo aiuto? No. Con le nascite in diminuzione, il caso di incentivare fortemente le famiglie affinché abbiano figli? Sì. Grazie per il trenino, belli. Ogni casata ha un traguardo a lungo termine. È una sorta di... È una storia passata di... Che influenzano le loro reciproche relazioni, affinità. Seleziona info per scoprire di più sulle casate e fai la tua scelta. DULAC o SOLAD? Senti le nostre punture? Il porcospino? Oppure DUL... SOLAD? Nulla. È come appare. Ma le info... Vediamo. No, è troppo le info. Ma chi se ne è fotto, ragazzi? Sol... Duchi di Solad. Vostra famiglia è l'ultima in regge... Non è... In tutta la storia dei duchi, voi non avete mai smesso di chiedere cosa c'è sotto le apparenze. L'ott... Vabbè, quello era il riassunto. Dai. Dai, su. Che palle, porca miseria. Il porcospino. Dualac. Dualipac. Eh? La barchina è bellina. Prendiamo il porcospino, guarda. La barchina è bellina. Qui... Il medioevo. La cruenta... Eh... Vita. Che attanaglia le persone. La barchina è bellina. Ma senti... Ma senti... Ma senti... Eh... Vediamo il porc. Il porc of the spinneses. Tra l'altro sono rivali, quindi. Se le zio... Ah, devo tenere il premio. Un gruppo di studiosi di Libra ha recentemente scoperto che antiche cronache spesso incolpano un cerchio nero. Un sole oscuro, un'eclisse maledetta. O altre immagini simili di aver causato la scomparsa di molti imperi del passato. Dopo aver osservato simili indizi, in anni recenti, gli storici hanno iniziato a interrogarsi sull'esistenza di una società segreta che, per secoli, avrebbe condotto all'oblio le civiltà precedenti. A tale organizzazione si fa riferimento come alba nera. C'è chi la vede come una forza del caos, chi come un motore di distruzione creatrice, chi come un gruppo di araldi di una nuova alba, precursori di progresso e cambiamento. Qualunque sia la sua vera natura, sembra che l'ora di una battaglia epocale si avvicina. Come capo del consiglio, hai il potere di determinare il frutto, il fiù duro del regno. Ma l'alba nera si nasconde nell'ombra. La sua esistenza è minacciosa e pur tuttavia intrigante. Il tuo ruolo è informare il re sulle decisioni del consiglio, ma, se lo desideri, è in tuo potere alterarle, sempre che tu abbia abbastanza potere. È ora di iniziare. Un nuovo resta per essere incoronato. Come si dipanerà la trama del futuro di Anchist? The King's Dilemma Le trombe suonano tre note crescenti e 81 colombe vengono rilasciate in cielo, mentre la madre priora del culo incorona Re Harald V. La gente prerompe in grida di gioia. Con il nuovo re si rinnovano le nostre speranze di una prosperità duratura. I dignitari stranieri di Kulakul, Kuiap, Kulalal, Muhurir affollano il castello per conoscere il nuovo re e ottenere il favore. La festa, dopo la cerimonia, si prolunga per tre giorni e tre notti per le strade di Libra, la nostra capitale. Dai Libra! La settimana seguente, seduto sul trono dietro la grande porta cesellata della sala del coniglio, il nuovo re si rivolge a noi per la prima volta. Ogni autorità può vacillare, è il potere che può essere una benedizione o una maledizione, per coloro sui quali è esercitato. Dice in tono grave. Dopo una lunga pausa giunge. Governare è un dilemma irrisolvibile. Cos'è? L'eclisse tiene traccia delle sei trame di The King's Dilemma Chronicles. Avanzando ogni capitolo della storia, quando tutte le trame saranno complete, l'eclisse terminerà e la rivolta avrà inizio. Avete capito l'incipit? Era in tono grave, era gravissimo proprio, stava malissimo. Praticamente deve arrivare questa alba nera che è presagio di una guerra epocale. Quindi, in sostanza, dovremmo arrivarci preparati. Noi siamo il consigliere del re e come tale consigliamo. Cribbio. Avete consigli? Questa è la mappa del reame. Scegli il tuo promissima prossimo dilemma dalla barra laterale di questa schermata. Modifichi il livello di zoom tra il regno di Anchis e la cavaliere. e vi mostrerò tutti i dilemmi disponibili. Queste cinque risorse rappresentano lo stato del regno. Influenza, ricchezza, morale, benessere e la conoscenza. Ogni dilemma sposterà uno o più di queste risorse, modificando la stabilità del regno in corso. Bene, per adesso siamo neutrali, giustamente. Abbiamo due dilemmi. Tork e il porto dorato. Per adesso sembra carino, comunque. Il tuo obiettivo è far durare le trami il più a lungo possibile, altrimenti avrai l'eclissi e il popolo si è rivolta. No, credo di dover arrivare all'eclissi il più preparato possibile per vincere una ipotetica guerra epocale. Credo. Giocata con Kiss di Emma, non sapevo se fosse anche il videogioco. È uscito... Quattro giorni fa. Comunque. L'alto comandante ha ricevuto un messaggio dai nostri soldati. L'alto comandante ha ricevuto un messaggio dai nostri soldati a distanza all'insicuro confine nord del Marchesato di Tork. Dei contrabbandieri Scaram stanno offrendo grandi quantità di ferro rosso. Uno strano metallo, in grado di spezzare persino l'acciaio più resistente. L'esercito ne richiede la maggior parte, ma si otterrebbero grandi profitti commerciandolo. Destiniamo il ferro rosso all'esercito? Per risolvere un dilemma, uso il tuo potere. Il tuo potere schiudo. Ah, ok. Per prendere la decisione finale, dopo che il consiglio è passato attraverso la fase di votazione. Approvare la maggioranza è un'azione gratuita. Sovvertirla ti costerà invece tanto sdrugo quanto la differenza in voti tra le due parti, più uno. Fai attenzione, se il tuo potere scende a zero, il regno in corso avrà fine. Ah! Ho capito. Risolvere il dilemma, spostare le risorse sul tracciato. Come predetto dagli indicatori rosso e blu, l'effettivo ammontare dello spostamento di ciascuna risorsa rilevata dopo il beoto. Quindi, il consiglio vota sì. Io posso sovvertire, dicendo no, ma mi costa due. Ah, questi sono gli altri regni che votano. Quindi due sì e un no. Ok. Destiamo il ferro rosso all'esercito. Se lo destiamo all'esercito avremo un esercito più potente. Quindi, l'influenza rappresenta la forza dell'esercito, reputazione del regno, gli occhi degli altri paesi, l'efficacia con cui viene applicata la legge rispetto alla gente. Ok. Mentre l'altro so i soldi. Quindi questo mi costerebbe due più uno, in teoria. Quindi tre. Eh, però adesso andiamo retta al consiglio. Un'economia forte richiede un esercito altrettanto forte a proteggere. L'alto comandante avvia i contatti con i contrabbandieri per definire l'operazione. Un flusso costante di ferro rosso arriva così direttamente ai fabbri dell'esercito. Dalle terre per lo più inesplorate delle montagne di Folafafagu. Che non mi sono. Solo una piccola parte viene destinata ai nostri mercanti. Guarda che figo, però guarda che fatto... È carinissimo, è. Mi piace un sacco. È tipo Reigns, però un pochino più elaborato, esatto. No, non sono gli altri regni, ma sono gli altri consiglieri. Ma c'era la barchetta, non è un altro regno? Per ringraziare il re dei prosperosi affari, i contrabbattieri gli regalano una superba spada di ferro rosso, chiamata Marea Scarlatta. L'esercito elegge presto la lama a suo simbolo e emblema del suo futuro potere. Una parte significativa del ferro rosso importato inizia a fluire verso l'armeria reale. I fabbri della milizia iniziano a sperimentare nuovi modi di lavorare il robusto metallo. A causa della sua eccezionale durezza, il ferro rosso è difficile da lavorare per produrre armi e armature. Ma vengono forgiate alcune lame per i regimenti di elite. Figo. È una famiglia diversa, il simbolo dipende da quello, se ben ricordo. Quindi cambia solo la famiglia, non sono regioni diverse. Perché all'inizio noi abbiamo scelto il regno, tra virgolette. Cioè erano piccole regioni diverse. E la casata era, beh sì. Effettivamente, però. Non so cosa sono questi simboli, però. Buonasera a termoracolo, riuscirà il nostro orario a vincere la vittoria dell'Helden Fisting? Ma vediamo. Sarebbe da fare per davvera. Sì esatto, sarà appunto come l'Italia e le regioni. Cioè nel senso, sono i sindaci. Tra virgolette, così a metterla così come paragone. Ogni volta che una risorsa si sposta, l'indicatore di stabilità a destra della... A destra la seguirà. Se l'indicatore di stabilità ha raggiunto una delle due estremità del tracciato, il regno avrà fine. Ok. Mantieni tutte le risorse nell'area evidenziata sul tracciato per totalizzare più punte al termine del regno. Ok. Grazie, pomodoracchies. Allora, però qui abbiamo Anchist. Abbiamo Libra. Ah ok, Anchist è tutto. Città delle Tempe. Perché Anchist è il regno. Libra è la capitale. Il laboratorio reale. Ma la marea scarlatta sarebbe questo? Dopo aver ispezionato le prime armi forgiate con il ferro rosso. Eh, mi dice anche che... Quali cose aumentano. Ah, però no. Sono due la marea scarlatta. Quindi... No, non vuol dire. Il porto dorato è quella che avevamo prima. Ah, la marea scarlatta è vero il nome della spada. Quindi sono entrambe conseguenze del... Del ferro rosso. Il dilemma del re. La città delle tende. Morano, un ricco mercante di una remota città del deserto. Questo fa diamante bandiera. Facciamo... Vediamo. Vediamo un po'. Ma che bel faccione! Morano, un ricco mercante di una remota città del deserto chiamata città di tende, intende, giustamente, proporci un redirizio a cordo commerciale. Tra la sua mercanzia si trova anche una concubina in catene. Ah. Egli afferma che la donna provenga da un tempio nel deserto che, presumibilmente, custodisce la leggendaria mappa dorata che abbiamo cercato per decenni. Ora, gran parte della nostra gente è contro la schiavitù. Costringiamo Morano a liberare la schiava? È vero, un pochino Bill Murray. Il contatore del tempo sulla destra aumenterà con ogni dilemma. Quando raggiunge uno spazio con l'icona teschio, il re ha il 50% di probabilità di morire. O il 100% se raggiunge lo spazio finale. Il contatore quando raggiunge cosa, però? Cioè, questo simbolo qui, cosa deve raggiungere? Costringiamo Morano a liberare la schiava? Costringiamo Morano... Sì o no? Il consiglio dice di no. Cosa mi porterebbe a non liberarla, scusa? Più soldi. Ah, perché continuiamo a commerciare con lui. Mentre se lo costringiamo a liberarla, però c'è anche un simbolo qui. Che probabilmente è perché mi dà la schiava. Ma sì. Ma chi se ne fotte, dai! Ci costa due più uno, in teoria. Quindi tre. Non possiamo tollerare la schiavitù. Ah no, cost... Non lo so. Non è la schiavitù. Costringiamo quindi il mercante a liberare la sua concubina. E lo cacciamo. Ovviamente il nostro accordo commerciale sfuma. Ma la popolazione esulta perché abbiamo difeso la povera donna. Molti sono anche eccitati dall'idea che ella ci possa rivelare la posizione della mitica mappa dorata. La leggenda narra che essa conduca un'inesauribile fontana di oro liquido. Ok. Un incidente diplomatico. Risolveremo alcuni particolari dilemmi. Avrà effetti permanenti sul reame. Quando ciò accade, una cronaca verrà registrata nella tabella sopra il tracciato delle risorse. I loro effetti positivi o negativi sono applicati alle risorse corrispondenti all'inizio di ogni regno. Le cronache positive spostano le relative risorse di uno spazio verso l'alto. Mentre le cronache negative le spostano verso il basso. Il problema è la nostra relazione con le terre desertiche del sud. Prima ancora che cominciasse. Seira. La donna che abbiamo liberato della schiavitù. Proviene da un remoto tempio della madre nel sud di Marudi. Quello che noi chiamiamo deserto d'avorio. Esistevano gli scam, sì, sì. Afferma che la mappa dorata sia custodita in questo tempio. Seira è stata rapita e resa schiava dal suo ex padrone mentre visitava la città di Tende. La sua storia diventa molto popolare nel regno e stimola una ventina di... Una ventata di interesse verso l'inesplorato continente meridionale. Da lei chiamato... Seira afferma che quella è la terra in cui il passato prosperò e cadde l'antica lega sabbiani. Gigi sabbiani. I nostri studiosi iniziano subito a preparare una carovana per recuperare la mappa dorata e riportare Sera a casa. Attraversare il deserto d'avorio famoso per le tempeste di bruciante sabbia bianca non sarà impresa facile. Caspiterina. Che è andato su dell'altro. Quindi non va bene portare tutto su. Perché in teoria questo qui non deve andare su. Il tono è meno determinato e la ricompensa sarà la fine di ogni regno. Le ricompense possono essere monete, punti prestigio e o punti brama. Queste qua sotto. Tracciato delle risorse evidenzia l'area obiettivo per fare punti. Più risorse avrai nell'area obiettivo più sarai ricompensato. Sopra il tracciato delle risorse visite prima delle ricompense basate sulla posizione natuale delle risorse. Va bene questa qua sopra. Intanto qui abbiamo queste cose qua. Le conache. Per adesso di cronache abbiamo la roba della schiava. Un po' complicatino sì, però neanche troppo in realtà. Com'è il giochillo del re? Sembra interessante, sembra. Allora... Io non so se conviene proseguire una quest. Oppure no. Anche se non so se... La marea scarlata... Qui sono le stesse. Queste qui non sembrano... A meno che questa... Il botanico lasso che defondi per studiare i velenosi cactus. Non so se è perché nel viaggio hanno incontrato cose. Qua cosa ho? Qui puoi gestire il consiglio e rivedere le informazioni sulle casate del regno. Spendi monete per rimpiazzare i membri del consiglio e per stringere alleanze. Quando il livello della tua relazione con un'altra casata è al massimo. Aumenta il potere complessivo se faccio queste cose. Con le tue scelte puoi cercare di raggiungere il traguardo a lungo termine della tua casata. Due traguardi secondari. Completarli garantirà maggior potere. Un bonus di punta e coesione o di senso per la rivolta. Stringi alleanza 10. Ok, inserono tutte le monetone. Bello il cinghialone. Preparazioni. Questi sono gli archivi. Ah, ok. Ah, sono le varie storie queste. Quindi il dilemma del re è la quest principale, tra virgolette. Questa è quella... Una ricompensa lontana che è quella della signora. Quando si completano tutte queste, si va poi al succone. Ma non mi sa che questo gioco è lunghissimo. Beh, adesso lo guardiamo un attimo. Non so neanche se lo farò tutta la notte, però... Eh... Ciuccia. Sul tuo casato dava degli obiettivi. Non c'è la... Ah, c'è la mia casata. Maledire la famiglia reale. Perdonare il bracconiere che ha violato la nostra tenuta di caccia, uccidere Isadore. Ah. La Maria Scarlatta fa parte della quest principale. Qua c'è il simbolo. Ok, giusto per capire. Facciamo questo. Dopo aver ispezionato le prime armi forgiate con il ferro rosso, il capo medico dell'esercito reale ha intuito che si tratta di un materiale meraviglioso per le attrezzature mediche. Ma che cazzo vuoi? Dal momento che è resistente anche quando è sottile. Alcuni suggeriscono che dovremmo dare la priorità alla forgiatura delle spade piuttosto che dei bisturi. Ma le nostre conoscenze mediche potrebbero trarre enormi benefici da tali strumenti di qualità superiore. Abbiamo la priorità all'uso medico del ferro rosso? Eh no, vedi, dicono tutti no, ma chi ce n'è fuori? Sottare in accordo con un membro del consiglio migliorerà la vostra relazione? Se questa raggiunge il livello massimo potrà investire monete per stringere un'alleanza. Solo che se io voto no, mi va su il... Casteldu. Sforo però. Però vabbè, sforare solo questo non... Se sforo solo uno non mi andrà subito a puttane, voglio dire. Ci avrò una tolleranza. Grazie, era tiguerone. Esatto, Gaia. Mi questo mi dà tra l'altro un evento, però. Però sti cazzi... Guardi il nostro popolo è inutile se non possiamo difenderlo. Data la nostra limitata fornitura di ferro rosso, la priorità viene data alla forgiatura di armi. Esattamente. Oh, porca bestia, va su molto. Sono ristretto sposta per due volte nella stessa direzione e si muoverà di uno spazio in più. Il colore dell'icona indica l'ultima direzione in cui la risorsa si è spostata. Bianco se verso l'alto, nero se verso il basso. Ok, va bene, sì. La prossima dobbiamo abbassare, però, eh. Sirello, un mercante di Coden proveniente da Duin e in Tè. Abbiamo perso i contatti con i contrabbandieri. Molti pensano che sucano. Vediamo un po' cosa dicono questi contrabbandieri. Abbiamo perso i contatti con i contrabbandieri. Molti pensano che siano caduti in mano i predoni di Schatzaman. Nelle montagne senza legge. Alcuni suggeriscono che dovremmo inviare un contingente militare per indagare un'impresa alquanto pericolosa potrebbe essere vista come una violazione dei confini del regno di Enkal, più a nord, con il quale non siamo più in contatto da decenni. E la cui forza militare è sconosciuta. Inviiamo l'esercito di indagare sulla spedizione del regno di Enkal. Spendiamo dette per corrompere un membro del consiglio a cambiare il suo voto. Il costo della corruzione di un membro del consiglio aumenta ogni volta che la usi. Corrompere un membro del consiglio congelarà le relazioni tra le vostre casate per il dilemma in corso. Usa la corruzione con criterio per esistire. Allora, qui il consiglio vota no. Non mi modifica comunque l'esercito. Se io dico no, mi abbassa tutto. Che per il momento potrebbe andare bene, quindi me ne fu otto. Mi interessa che cazzo di fine hanno fatto gli gongiabandieri. Però dobbiamo andare di no per forza, credo. Qualche giorno dopo il cadavere di un contrabbandiere giunge a Torque, legato a un cavallo. Con un pugnale di ferro rosso conficcato nella schiena e una lettera in mano. I vostri uomini hanno violato le nostre montagne. È stata eseguita una giusta sentenza. Il sanguinoso messaggio è stato scritto usando dell'inchiostro rosso, firmato con il simbolo di un guanto, emblema del regno di Enkal. Bestia. Avvisiamo gli esploratori dell'esercito di tenere d'occhio questi aggressivi vicini. Cazzo. Li hanno sgamati e ci hanno mandato la testa di cavallo. Dopo aver abbandonato Lawrence e i suoi contrabbandieri al loro destino, molti nostri mercanti non si sentono sicuri a viaggiare fuori dai confini del regno in cerchi di nuove occasioni di profitto. Cazzo. Nonostante la distanza, relativamente breve, i contatti con il regno di Enkal si sono persi per decenni. Le aspre terre che ci dividono permettono pochissimi scambi. In ogni caso, loro non hanno mai avuto molto da offrire. Sebbene fossero una società di stampo militare, abbiamo considerato la gente di Enkal inoffensiva come gli Scaram, le tribunomadi che vivevano nelle brune colline non reclamate lungo il nostro confine. Eppure, nonostante il loro numero esiguo, sembra che siano diventati una minaccia grazie al ferro rosso. Devono averlo scoperto solo di recente, ma ne hanno padroneggiato l'estrazione e la lavorazione molto meglio di noi. Gli esploratori che abbiamo inviato hanno avvistato un'imponente fortezza, rinforzata con enormi lastre di ferro rosso, che chiamano la Fortezza Cremisi. C'è uno stampo fantasy? Fighissimo questo gioco, porca miseria. No? C'è c'è un world building bestiale, porca miseria, da quella... quel sentore lì. Sembra fighissimo, sembra. Cioè, sembra di leggere veramente un libro fantasy scritto bene. Quanti peso scosta? Non lo so, perché mi hanno dato la chiave. Fammi andare a vedere. Ehm, dovrebbe essere uscito di recentissimo. Nuove uscite... Cioè... The King's Dilemma, 14 euro e 79 centesimi. Non si basa su quello, ma non era comunque scontato. Beh, sicuramente se sfanculava la scrittura, però... È veramente... figa. Cioè, la storia sembra figa. Proviamo l'esercito a indagare sulla sparizione dei contrabbandieri. Questo è quello che abbiamo fatto. Anche esteticamente... È molto curato, non mi sembrava, dagli screen. Quindi, adesso sopra abbiamo... Il ferro che perfore il cielo. Il ferro che perfore il cielo. Si cita senza precedenti. Chissà perché il tempo, che ruolo ha, porca miseria. Sempre più sulle voci feroce, il regno di Enkel preoccupano. Allora, tiriamo un attimo avanti la roba della marea scarlatta. Ho speso cinque monete per fare questo. Merda. Non me l'ho accorto. Pisello, un mercante di Coden, proviene da Duin. Si è interessato alla marea scarlatta, la spada rossa del re. Sta offrendo un'ingente somma per acquistarne una copia. Ma ci c'è però, dai. L'esercito tuttavia si è affezionato a questo simbolo. Non vorrebbero vederne un valore simbolico macchiato e sminuito a causa del capriccio di un pigro mercante. Di Coden. Permettiamo che venga realizzata una copia della marea rossa? È figa, no? Come sì? E che cosa vuol dire? Rosso perché ne va su solo... Cioè... È solo uno. Ah no, blu e rosso perché sono blu e rosso. Ho pochi soldi. Cioè sarebbe da fare sì. Oh, mi perdoneranno i miei sudditi per questa scelta. Ma bisogna anche un attimo piegarsi alle richieste del popolo. Eh... Sì. Il mercante schiocca le dita e i suoi servitori corrono via. Pochi minuti dopo tornano con un enorme cazzone. Quando lo apriamo lo troviamo pieno dei diamanti più piri. È brillante. La sensazionale vendita di una replica della marea scarlata e alto vita a un nuovo tipo di commercio. Costose repliche di oggetti di fama unica. Sono prodotte... Facciamo merchandise, ragazzi. Alla fine è... Merchandise. Sono prodotte e vendute ogni giorno a ricchi nobili collezionisti sfigati di merda. Che coglioni del cazzo, ragazzi. Dobbiamo stare attenti con l'equilibrio. Abbiamo tuoppo esercito. Dovremmo mandare qualcuno a Enkantantam. Eh? Allora, fammi vedere nel monto. Questo cos'è? Esercitamento. Vai, andiamo. Sempre più spesso le voci sul feroce regno di Enkal preoccupano il nostro popolo. Molti pensano che dovremmo reclutare altri soldati tra i contadini così da pattugliare le terre e rivendicare a nord del confine. Gli studiosi ritengono invece che dovremmo indagare sulle abitudini di Enkal per accertare che siano davvero una minaccia e per chiarire l'equivoco causato dai contrabbandieri. Reclutiamo più contadini nell'esercito. No, assolutamente. Sei pazzo? Ah no, però non mi aumenta questo, vero? Io dico no. E che questi qui mi cagano in capa perché, porca miseria, c'ha tutte le freccine verso il basso, questi stronzi. Mi si rivoltano contro. No, in realtà è il contrario. Io dico no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo all'esercito, non ci interessa, ma sì, ma va fanculo. Eh. Studiosi fidati iniziano a fare ricerche sulle usanze del regno di Enkal, mentre una delegazione di coraggiosi diplomatici parte per la fortezza Cremisi, chiedendo udienza ufficiale. Molti tuttavia hanno paura a lasciare incustoditi i nostri confini. La nostra decisione di approfondire la cultura del regno di Enkal ha acceso il vivo interesse dei nostri studenti affascinati, dai loro abiti e costumi inusuali. Molto pene. Dopo l'incidente diplomatico iniziale, i nostri delegati sono stati formalmente inviati alla corte del nord, nella fortezza Cremisi, dove sono stati accolti con rispetto, seppur freddamente. Enkal è una società piccola, ma estremamente competitiva, di esports player. I loro clan lottano costantemente per il comando, e il loro re guerrieri, devono continuamente dare dimostrazioni di forza per rimanere al potere, il che spiega la loro eccezionale abilità militare. Mentre alcuni potrebbero considerarli dei barbari, sono in realtà organizzati e disciplinati. Servire nell'esercito per loro è il più alto onore riservato a quelli di comprovata forza e indubbio coraggio. Sebbene in numero limitato, ci dimostrano essere formicibili, nebacibili. Inoltre, sono gente d'onore. Sì, sì, finché non vengono provocati, non dovrebbero rappresentare un pericolo. Oh, porca miseria, ragazzi! È salita! Non doveva scendere, maledizione al seme? Oh, signore! Siamo nell'ambicco di merda! Oh, puzzona la miseriaccia! Oh, ma i soldi! Il re ha abdicato! Alla fine di ogni regno otterrai ricombenze, come descritto dal tuo allineamento morale. Se riesci a portare tutte le risorse nell'arri obiettivo, guadagnarai ancora di più le ricombenze. Quindi solo uno noi abbiamo, questo qui. Quindi questo. Ah, queste sono le aree obiettivo, in realtà. Cioè, noi dovremmo avere tutti i punti qua e qua. Alla fine di ogni regno dovrai scegliere l'allineamento morale del tuo erede al capo del consiglio. Maggiore sarà la durata del regno, più allineamenti morali saranno disponibili. Quindi mi scelgo gli obiettivi. Opportunista, opulento. Facciamolo opulento. L'opulenza, la puzza del soldo, il succo di denaro. Spendi due punti prestigio e punti brama per vorrati la rivolta. Ogni preparazione mostra le sue ricompense e il numero di regni ereditoriali. Sono incazzato un po'. Ecco. La maggior parte delle preparazioni sbloccherà un dilemma con cui dovrai confrontarti durante la rivolta. E questi sono le spese. A due regni servono. Però dobbiamo fare quei soldi lì. A meno che proseguo le cose, non bisogna fare le reti risarzi. Bello profondo comunque è sto gioco. Veramente figo. Ma in realtà forse perché da guardare Kinshiro non è complicato. Da guardare forse è più difficile da capire. Però è veramente figo. Ok, da qui siamo praticamente liberi. Boh. Vogliamo fare un change? Vogliamo provare un altro giochino? Cosa dite? Questo sembra veramente figo però. Dai, proviamo a fare un change. Però veramente bello, porca miseria. Pensavo fosse qualcosa di più semplice alla Rains dove devi dire semplicemente sì e no. Invece c'ha delle meccaniche in più che forse è un bene che ce le abbia in realtà. Anche se un gioco semplice alla Rains con cose che però succedono in automatico mi sarebbe piaciuto. Vorrei capire una partita intera quanto dura. Quanto ci abbiamo messo. Meno di un'oretta. 40 minuti forse. Lo porterei ancora, non lo so. Non lo so. Proviamo questo qui. Vediamo un po' sto gioco qua. Questo dovrebbe essere solo in inglese. Spero non sia troppo complicato da capirci. E' fatto da un singolo developer. Bravo Dolia che inizia a usare i nostri meme di 50 anni fa. Ma ancora sempre i nostri meme. Almeno sembra un gioco mobile. Proviamo. Combat Tutorial. Ma non erano simulate? Come so. Drunk mode. This is a silly option. Ok. Play. Vediamo un po', eh. Dove ho cambiato la categoria. Che cazzo si chiamava questo? Who? Who? Aspetta che non mi ricordo come si chiama. We who are. About to die. Ecco qua. No, mi è rimasto il succhione del discorso di Steam. Lei va. Un culo. Ecco qua. Dicevamo cosa succede. Mi sono perso cosa succede. No, devo ottenere di nuovo. Ecco. Train a de scollo. Ma come si muovono questi pezzi di merda, ragazzi. L'ho già cambiato, vecchio. Non ti preoccupate. Era un titolo del cazzo. Era un casino da fartelo scrivere. Ma cos'è questo uomo lucido? Behold, our god and blood encobbed. As an offering in Tarantia was built. City of Wine Games. City of 1000 arenas. My name is Joridis. I was once like you. I retired. And now I train fresh sacrificals and host games. Move the pressing quest. Move to the market areas for best lesson on the game. Train me. Ostia. Waze. Mi si para. Così si combatte. Vabbè, la telecamera. Abbiamo capito. X. A X locco la telecamera. R la resetta. Va bene. Shift per sprintare. L'ho fatto. Ma mi traballano i soldi. Cosa succede? Aspetta. Ok, mi dice che è il movimento importante. Eh? Eh? Unh, 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 unh. Aspetta 24% weapon speed Cosa vuol dire? Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta In a direction, ready to direction attack Can control and drags work best Se clicco e basta faccio l'affondo Così faccio finta Attacks lock after one second Hold and attack for a best effect To strike Va bene Non è semplice Ah, se tengo premuto alt E per forza un affondo Con control invece fa le savandurie No, come si muoveva la telecamera Bestia Succhia, succhia tutti i soldi Ciuccia, ciuccia Allora Posso parare alto e basso? Con F Faccio lo Spartan Kick E con lo scudo do Però prende danni anche lo scudo Va bene Ma io c'era scritto che era un mezzo gestionale questo gioco Ragazzi Ah, tab Ok, tab blocca Oh, perfetto Press again to switch to the Ok X per detargettare No Premi C Tu per respect Ma è bastardo No La F Tu per respect Non ci arrivo Vabbè Se non lascia i soldi Vabbè Elton Stamina Ma chi se ne fotte Di Elton Stamina Dai Aspetta Premo Q Per droppare lo shield Aia Ai ai alle palle Le spade di Bregola Va bene Dai non c'è bisogno Questo è tutto A sentimento Advanced attacking Hold an attack To have its more strength speed When you do a quick flick Your attack will be faster But weaker Ok, quindi più è veloce Più è veloce Ma è meno potente Tsakata Tsakata Tsakadul Allora Qua cos'è? Dashing Oh mai soldi Ah posso fare anche Con la barra Oh no Ci sono anche le cose Da tirare Come le prendo? When dropping a weapon It's moment to persist Ok, droppato con la E Ho preso Come le Aspetta eh Aspetta eh Che la lancio adesso Adesso lo faccio eh Un attimo Bestiale Ragazzi Bene Adesso è arrivato il momento Aspetta che raccolgo i soldi Scusate Allora Entriamo nel nostro match Di debiuto Prima raccolgo i soldi Scusatemi Primo enter To battle Una spada Così per scherzare Move to the gates Non posso andare D'altre parti Quindi Quattro Tre Due È il nostro Mese di debutto Ragazzi Carichi Oh mai longari Se Lo taunto Vi è qua A merda No No Oh porca bestiaccia Com'era Aspetta rega Ha lanciato la spada A cazzarola No No L'ho ferito pesantemente Oh porca miseria A cazzone L'ho preso L'ho preso Yes Come si lanciava le robe Oh Mi è solo caduta così Guardiamo un'altra arma Volevo la lancia Uh Puste Gnacchera Uh Uh Va tutti su di me Soccia Oh no Pappa L'americano Caspiterissima Vado 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 da lui Vai Ahia Ma siamo dei tori Ragazzi No Ma dove vai Senza scudo Pirla Mamma Mamma mia Rega Questo come lo infilo Gli ho rotto lo scudo Aia Siamo senza stamina Aspetta Aspetta dobbiamo recuperare stamina Uff Prendiamo la morning star No Non la prendiamo Non la prendiamo Prendiamo la lancia Ho ucciso uno dei miei Ma era Aia Quanti ha tirato L'ho tirato l'uso Assassata Ciuccia Chi è il master Che è il master Il master Il master Of the corrida Oh 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 Mi scusi Vai 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 Ragazzi Eh Ragazzi Oh Ragazzi Oh Ragazzi Eh Ragazzi Eh Oh Fenomenali Fenomenali Che debutto Ragazzi La signora Mazza Eh La signora Allora E poi c'è Valerio Ok vabbè Basta di sbattere Quanto sbattono Sti bastardi Quanto sbattono C'è Approvo Approvo Sorden Approvo Approvo Certo Approfessional Accetto 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 Approvo 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 Lì Come si chiama Lino Un gladiatore Lino Yengadi Come Lino Eh Marty Ti sei perso Dello storytelling Ti sei perso Guarda Reveal new item Reveal new item Non è 18 214 Loc L'inventario Ausiliario Non posso cambiare Nome Accessory Clock Ah puramente Cosmetici Questi sono Vai la pelliccia Ne voglio cambiare Nome Voglio Scusa Character name Certo Va bene Allora Facciamo un reveal 999 Riveliamo Ah posso rivelare Tutto però Ah questo è il mio salario Mi costa 20 Allora Armatura 16 Durabilità 48 Soprano Stamina Rigenerazione Soprano 2 Ah c'è anche la comparazione Ma va che roba Oh Grazie Nidio Perché lì Non diventa campione Qui eh Elmo 45 HP La durabilità Più armatura Però ha meno Stamina Rigen Mi abbassa di più La stamina Rigen Che mazzone Allora Fa più danni Naturalmente Danno Contundente Ma mi serve Con un po' C'è stato L'armatura Piuttosto Che non ce l'ho Proprio Eh Sturdy Stamina Rigenerazione Mi Questa la Buiamo 5000 Questo è un botto Ah posso chiedergli Di tenermela Così la prossima settimana La posso Cioè non mi va via La posso comprare Io c'ho Non c'ho niente Di soldi Cazzo Non posso comprare niente Non posso comprare A fanculo Va Non mi è servito A niente Non holdo Un sughero Allora Questi sono i match Che potrei andare a fare Livello 4 Ma noi siamo a livello Culo Tubato Ah posso scegliere Anche di fare Quello A porte Chiuse Secondo me Possiamo fare Anche questo qui Ma proprio Easy Go to the battle Without weapons Weapon provided By the public Ok qua Le armi Sono Quelle che si trovano A terra E basta Ma ci sta Non si sa Quanto è il reward Ma sarà sicuro Più di questo Livello 4 Che facciamo Ragazzi O andiamo Nel Completamente Blind Però qui È la nostra È la battaglia Che stiamo Per andare a fare Dobbiamo scegliere Che battaglia Andare a fare Andiamo a fare Quella blind Ho deciso io Voglio andare blind La scatola Chiusa Non sappiamo Cosa ci troveremo Contro Ragazzi The pits Lost E la signorina Valeria Valeria Mazza Tra l'altro Siamo in squadra Io sono in squadra Con questo tizio qui Porca Sommelier Siamo un sacco di squadre Oh my longari Ti aiuto Vai lo sfondiamo Vai E uno No Andato Oh porca miseria Mi ha dato una saccagna Eh dai Oh l'ho colpito Ho colpito anche l'altro Oh miseriaccia Stai attento Il mio Quello con me È pelato Bisogna stare attento No perché ho colpito Non è Il mio alleato Non penso Non lo colpisco Maledizione Oh mio dio La telecamera Si muove tutta Ok Uno è andato Sono contro tre Uno l'ho decapitato Due Doppia L'ho disarmato No sono stato disarmato Prendo la ramazza Bestia Che legna Oh Devo salvare il mio collega Oh Mamma mia Alla grande Ragazzi Andiamo Andiamo dagli altri No è morto il mio amico Fuster Nice Alla vigliacca Prendo l'altro Oh pulotto Cazzarola No la stamina Metà vita Ragazzi Questo è forte Aiaia Mi ho rotto lo scudo Questa l'ha sentita Anche questa No No sono stanco Succhiamentos Vai lino Vai Questo gliela lancio Prendo quest'ascia Qui Ma se io rompo Aspetta Che c'erano i soldini Dentro Osserviamo Osserviamo un po' Questo c'ha la lancia Va ucciso Succito Fermo Fermo Con quello Forcone Bravo Bravo Dagliene Dagliene Prendiamolo in due Maledizione Non riesco a muovermi Bene No Non è un'arma Questa Oh maledizione Vai vai Non ha neanche lo scudo Questo Come merda Si usa Quest'arma L'ho inforcato Cazzone Aia Sono stato disarmato Prendo la padella Vai L'ho spadellato Ragazzi L'ho spadellato L'ho spadellato Come il pubblico Si stava annoiando Oh Pezzi di merda Come si stava annoiando Ho preso la padella L'ho ucciso con una padella E Incredibile Questa cosa Ucciso con una padella Grande lino Grande lino Va va Aspetta Quello è il reward O è il totale Dei nostri soldi Meet the patrons Ne frega niente Va come salgono Va come salgono I soldi Ho brotolato tutto Shield skill Più o bronze daga Daga di bronzo O una skill La skill Forse più importante Di una semplice arma Non saprei Bronzo o ferro rosso Bronzo O ferro rosso Vedo la skill Grazie mille la visione è scoperta dal tuo cuore andiamo al menu del carriere e visitate il fisicista e andiamo al menu del tab il punto di vista del punto di vista quindi la vita ci scende sempre di più se l'utilizzo del menu utility heal free e quindi lo aero ok sono tornato a 81 ma non 100 mi costa mille curarmi ancora ah che figa come roba comunque promote ok qui scelgo scelgo di promuovermi semplicemente ripara fundraise e questa è la banca mi mettono ah the shop owner with your services e bribery cos'è bribery? to brave a patron to increase your favor mentre scollo abbiamo tutte le robe qua che cazzo è questa roba? gli upgrade gli upgrade di scollo lo scollo è il nostro patrone in teoria eh training regime ma 50 spendiamo lì sti soldi boo è la corruzione bribery ok eh eh signori in less chance for ordinary tier rips in the shop healing price for each procedure cut by 20% ok queste sono tutte delle passive stonche ah siamo con la valeria mazza 17% perché giustamente abbiamo fatto una roba ostata da lei statistiche backstory e victory va bene qui abbiamo niente rivelare questi bisogna sempre rivelarli credo non costa soldi rivelare ma forse qualcosina si ma sono molto più buoni di quelli che ho adesso mi tolgono un po' di stamina regen però prendiamoli ma poi solo uno stivale sinistro o destro yes quindi adesso posso sostituirlo e questo posso anche venderlo no? bene tanto posso rilevare un nuovo item sturdy ah questo qui è la rarità credo vabbè non ci abbiamo ce li abbiamo i soldi in realtà però ah è un'ascia one hand attacks damage c'ha 10 in più di damage però per adesso facciamo senza va bene cambiamo cambiamoci niente nudi sto gasando ragazzi voglio gasarmi quasi un locco non lo so per adesso forse bisognerebbe un loccare anche gli inventori e ste robe qua bestia un livello uno contro uno livello 4 con anche dei cosi che non si sanno sempre da mazza però noi dovremmo aggraziarci anche gli altri patroni ma questo è un tutti contro questo è un 3v3v3v3v3v3 questo è un 2v2 come quello che è l'ultimo che abbiamo fatto cosa facciamo è che l'1v1 anche a me garba di più però è sempre di mazza cazza girando le ricompense dovremmo fare altri ah questo mi da un più 2 allies on your side requires entourage scroll scroll upgrade che non ce l'ho perchè non c'ho nessun upgrade quindi niente in realtà non voglio fare l'1v1 dai però siamo alla grande villa giustamente per fare l'1v1 tricca tracca tracca tricca tracca tricca tracca tricca tracca eccoci qua ah non abbiamo gli scudi no pirla no pirla pezzo di merda eh ah te l'ho pagata oh se facciamo no damage ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia che legna che ci ha tirato ragazzi che danno fa però l'abbiamo sfondato mamma come l'abbiamo sfondato non ne saprei non lo saprei dire cruel non lo saprei dire l'abbiamo smerdato questo eh ci ha fatto un sacco di male con un colpo che ci ha dato cioè tre colpi ci sfondava questo eh però gli altri calano maledizione ok allora 500 adesso costa però dobbiamo curarci almeno una volta dai allora abbiamo 5000 intanto vediamo cosa c'è qua non ci abbiamo i soldi cazzo impressive ah lo scudo l'abbiamo perso per sempre tra l'altro iron spike mala cazzo eh costa troppo costa lo spallaccio non ce l'abbiamo si lo spallaccio sinistro ce l'abbiamo ma mi sta non mi sta dispiacendo Gaia si locale magari dopo eh loccherei il busto più che altro sai che costa un botto tenerlo alloccherei anche qualcosa alloccherei vai un chiulo ce l'abbiamo un po' di fama milleotto ce lo compriamo il piede sinistro non è male ma si dai posso vendere sì sì ma non vale un cazzo la mia roba eh osti eh no comunque no direi a posto così per adesso facciamo un altro match mi rivelare questo dai troveremo altra roba dopo non voglio bloccare l'armatura la blocco anche l'arma in realtà bloccata bloccato bloccato l'arma però non l'armatura anche se 6.900 vabbè speriamo di farne di soldi perché c'ha 48 di danno c'ha 46 di danno vediamo vediamo la prossima allora un altro 1v1 livello 4 di chi è questo di lucky rius mazza stavolta ce la lasciamo stare facciamo un altro view no view view pro 3000 no facciamo mistero dai cazzo livello 5 ma sì chi non risica eh e noi risichiamo come risichiamo the tarant pits ma siamo sempre 1v1 però livello 5 questo ci smazzuola il culo ragazzi e una glielo data e due glielo date papovic cazzone è ben armorizzato eh non la stamina la stamina no no questa l'abbia andata fortissima eh posso fare anche lo step forward la stamina non mi si resta più di un po' vai ma che grossi che siamo che grossi ma guarda che roba lino ci vuole tutta tattica perché eh vai valerius riprende anche un po' di fametta dobbiamo fare anche gli altri eh dovremmo tenerli equilibrati credo per aumentare il fame multiplier roba del genere chi lo sa 6500 se vendiamo cazzo però ah vedi l'inculatona gigantesca immensa item reserved è aumentata di prezzo un botto scusa ma non ha senso ah mi ha dato qualcosa progress campaign this week exchange for eh in ratio 101 ah posso scambiare la fama con del denaro però fa un culo questa cioè minchia un botto vostra allora ci servirà sia lo spallaccio che questo ma entrambi non possiamo perché dobbiamo anche curarci però l'armatura ce la prendiamo bella bella è risultato di favore con la signora mazza boh è viola oh madredizione eh 13.000 da quando mai c'è gli ho ah c'hanno anche le passive ma che figo sto gioco oh mi sta gasando un sacco intanto intanto curiamoci siamo tornati al 100% di vita qui possiamo prendere niente extraordinary costa 2000 di favore ma vai si aumenta il tier delle robe che posso trovare nello shop e a partire si è ripreso eh sì tutte scopertine carine dai andiamo per carità può rompere le palle facile questo eh sembra fatto cioè no sembra fatto c'era il banner all'inizio che diceva è fatto da una singola persona il fatto che il concept del gioco è fighissimo è fighissimo a me piacciono un botto i giochi così eh io addirittura pensavo che la battaglia tu non la facessi era tutta simulata e basta che fosse un gestionale tra virgolette invece è anche la parte così allora qui non sappiamo i soldi che ci danno allora dovremmo fare allora qui lost non si sa chi è ma se mazza è questo questo qui può essere o l'altro ancora che ci serve betting posso fare le bet? wow 3 kill e posso bettare 1000 e ne vinco 1800 vinci in 3 minuti vinco 2100 fai 3 smembramenti sopravvivi col 50% di vita dai scommettiamo dove vado ragazzi eh questo beh 2000 questo qui non lo so cos'è vado su questo questo cos'è questi 3 occhi quindi usa sotterfugio ah usa sotterfugio influenza to reveal information about this fight ah nel senso che ce li ho tutti quindi ho tutte tutto ciò che mi serve da sapere e facciamo questo la betti su te stesso non è leale ma chi se ne fuot ma chi se ne fuot ma chi se ne fuot no no levati sacchete oh no ho preso oh mai soldico ho preso l'altro vai ganzissimo oh porca miseria scappellato no staccati oh pusollone non mi fa niente non mi fa stupirla dai che sei morto e sei morto e cadi gli ho tagliato un brasso vai vai grandissimi ma siamo dei campioni ma cosa vuoi fare che sei da solo sono un po' stanco sono stanco molto stanco ma abbiamo vinto dai i più forti del colosseo ragazzi più la bette un gran soldoni ed era la signora alluora rank up free repair the local blacksmith one big after ok questo c'è da un una riparazione gratis o duemila di favore il favore il favore però è buono il repair può essere utile più avanti ma per adesso me ne fotto l'uomo il gran bette l'uomo 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 quindi è proprio una scelta di scazzeggiare al lavoro o lavorare perché queste noi siamo disciplinati bestia abbiamo preso un botto di vita però abbiamo guadagnato favore e stamina massima quindi alla fine ci curiamo e va bene così che grazie di non ne sono il dottore mi dica 33 33 andiamo verso i tre anni lurcando un botto ma con enorme progetto ero si facendo tra le mani sono contentissimo vedo che va avanti il 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 le carte 35% vita o vita massima no era vita per la sua vita fa un po' tutto cacare la spada è meglio della nostra sì ma per adesso sinceramente ma che se ne ha vuote lo scudo potremmo prendere lo scudo ma mi sembra una spesa in ut si rompe lo scudo fa cacare è metallico eh 360 hp la nostra spada è quasi rotta ma un altro match lo regge un altro match lo regge tranquillo quindi aspettiamo il prossimo grazie claire per il ride ciao belli noi qui stiamo cercando di portare su lino yengadi che non è un nome che gli ho dato io effettivamente è capitato si chiama lino yengadi ed è il nostro gladiatore se fai hold con la fama ti aumenta il costo al giro dopo oppure si alza il prezzo solo se blocchi con il lucchetto fare hold blocca con il lucchetto e il turno dopo aumenta di prezzo non è in onore di lino è solo capitato ma intanto vediamo le bet sopravvivi con l'80% di vita vuol dire non fare no hit fai uno smembramento fai 200 danni faccio lo smembramento solo uno ci può stare però non so fare allora faccio questa sotto della mazza però di valeria mazza andiamo sul blind posso anche fare rivia il 175 di favore che vabbè che tanto no questi qui non li voglio fare perché con la mazza sono già su andiamo di blindness allora gioridus che ci serve entourage più due alleys on your side requires entourage to scollo eh no quindi siamo ah è quello 2 contro 2 contro 2 contro ciuccia va bene va bene ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la faremo ciuccia ciuccia de ciuccia mens oh ma i soldi la telecanderbatch mazzuoli oh mio soldo ho perso già tutta la vita che sarà la fine di lino the best ma poppo aspettate che c'ho la stanchezza fisica no mi si sta per rompere l'arma ragazzi devo uccidere lo svelto oh fusellanime wow l'ho smembrato fammi prendere il suo martellino di merda ma prima no non volevo buttarla l'ho preso ora corro dal mio amico qual era il mio amico? era quello quindi devo combattere contro il giallo non è vero devo combattere contro questo vai vai l'ho ammaccato no niente mamma mia da dietro nel cuneo oh mai sondrica vai li smazzo tutti almeno è già morto l'altro mio nella testa mamma mia come ti sfondo oh quella mazza dove è partita? no la voglio niente ma quello la che guarda sarà il mio amico secondo voi? ok 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 c'ho anche il favorone del pubblico mamma mia oh ma quello che fa? ma sta a guardare il pezzo di merda quello lì è il mio compare mi vado vicino che se non fa una sega questo oh pisellone oh ma che fa? una france il giro è diverso di lui oh gliel'ho data gliel'ho data le ha prese le ha prese le ha prese le ho roto lo scudeo l'ho disarmato oh po 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 e muoviti no sono stato disarmato ma l'ho ucciso perché mi è partita l'arma e l'ho ucciso posso raccogliere qualcosa? ok raccolgo un martello intanto non posso raccogliere la sua arma c'è uno scudicchio se raccolgo la roba mi rimane? eh non hai fatto un cazzo pezzo di merda questa è di legno questa perché non la posso raccogliere? perché la mia che si era rotta vediamo così ho letteralmente dato uno scappellotto al mio compagno ma nello dargli mi è partita via la mazza che è finita addosso all'avversario l'ho ucciso vai rencone free match roll throwing skill vai abbiamo 7000 questa volta abbiamo un po' di armi tra cui anche un elmo epico mmmm dobbiamo curarci due volte qua in allora adoring fan ci ha mandato la letterina al fan io sono il tuo grande fan e secondo la tua ultima performance ti ha detto dormire via la porta guarda e trovi percorso percorso prendi questa famiglia percorso non non ma voglio tenere david david ci da il suo cimeglio di famiglia a nyan levy footwear uno stivale ma chiamo le guardie non mi interessano questi sporchi coglioni meno 1500 di favolazzo però ho preso 8% di favor per tutti i patrons me la tiro un po' sono l'imbattuto ragazzi se mi permettete eh ma che ma che guarda che così faccio anche alla games week lo sanno quelli che sono venuti faccio anche io così allora sono tutte blu però questo è un pace of masterwork questa è una shona gigante a due mani 34 d'anacol 24 34 anche questa è la stessa è ah questo è un mazzafugo non lo so potrei anche rerollare ragazzi rerollo intanto prima andiamoci a curare però almeno così eh per forza allora o mi prendo il mazzafriullo vi prendo vi prendo uno stivale gratis magari puzzava faceva gagare cioè voi scusate voi se vi arriva un fan e dice eh questo è un cimelio di famiglia importantissimo vorrei lo ricevessi tu perché sei la mia più grande aspirazione e tutte queste cose qui e poi vi porge uno stivale che puzza di merda eh io adesso voi pazzo prendo il mazza coolen il cazzamullo il figatrullo posso anche rerollare vuoi che non ci viene fuori un'arma ragazzi io rerollo rerollo eh va 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 che schifo ragazzi possiamo rerollare di nuovo eh rerollo di nuovo sempre peggio ragazzi ma che merda rerollo di nuovo frega un cazzo ok è una spada tutta bellissima però però non è chissà che roba vabbè eh ci tocca abbiamo rerollato ecco ecco cesiamo sto pisellone a sto punto mi do anche un'altra curata vai e più ti curi e meno diventa effettiva e più costosa però si può potenziare e tutte queste cose qua vai andiamo cazzone cazzone grande ah questo è il livello 6 luck the draw senza armi e le armi te le tira al pubblico merda saperlo prima potevo guardarci effettivamente eh di favore chi è che mi manca all'ora quella che mi manca di più vabbè shrouded extra information about this match cannot be revealed all'intanto non possiamo bettare un cazzo survive survive win with two surviving allies fai 400 danni agli compagni di squadra vuol dire che li devo ammazzare mi piace questo rumore di friuste cosa faccio ragazzi livello 6 o vado blind destra o sinistra mmm faccio quello totally blind vai pregagnè ok allora più 10% gold reward is invested in your next character ok io non c'errò mai un next character sono il campione quindi uno uno v uno o no sono due no è uno ciuccia pirlo ciuccia pirlo cazzo c'è lo scudone lui oppone oh cazzone ho finito la stamina già oh pisellabile io l'ho rotto però no gli ho fatto cadere ma non lo posso neanche raccogliere che sono due mario vai questa ricamera è un pochino birbante e pega e pega oh mio soldo prendo io gli ho rotto la stong no ma vuole tirarmi un pugno cosa ha preso? una bottiglia di san bernardo oh porca bestia mi l'ha tirata nella faccia ma l'ho sdrumato eh questa è andata succhiosa eh è andata siamo ancora vivi in C abbiamo una lira adesso però vabbè più 100 favor tutti i prossimi personaggi più 2000 al tuo prossimo personaggio e facciamo quello ok approviamo mysterious malaise no abbiamo una malattia la febbre ti ha stracchinato o è dopo sbronza in ogni caso c'è il sacchetto pieno di sassi le palle gonfie eh perdi il 25% di vita la stamina è cappata a 40 per una settimana merda will you push yourself eh taking for the risk or take it easy no no riposiamoci che stiamo una chiavica eh training eh non possiamo fare training con l'upgrade sono non available ok però possiamo curarci almeno di uno siamo tutti incammellati e porca miseria allora intanto vediamo qua non prendiamo niente ci servirebbe uno spallaccio questa per quanto è è meglio della nostra però costa una barca di soldi comunque non ce li abbiamo niente non possiamo neanche bettare questa settimana bello many vs many però questa è da 4000 un 1v1 livello 7 eh ragazzi sono esosi 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 vai esoso pes non so se qualche sardo ve l'ho già detto ma codiamo qua da noi un invito sconcio di un certo livello lo ben sappiamo Lorenzo anche perché la nostra fanbase è composta dal 70% di sardi quindi andiamo porca miseria come parte agguerrito lui oh pusillanime ha uno scudo gigante oh miseriaccia bestia siamo morti ragazzi siamo morti ragazzi lino 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 il desirso è morto lino secondo me non è vero recco di david farris mi fido effettivamente però non so fammi vedere la carta d'identità recco la morte non è la fine non ti scorreggiare il tuo prossimo aspirante avrà una scelta di un'arma un iron d'acca è meglio l'iron d'acca però direi che molto bello comunque il nostro prossimo personaggio tra l'altro parte con dei privilegi di eredità fammi giusto vedere l'inizio ma fa schifo come si chiama questo ah si poteva cambiare qui silen calgarix è sardo anche lui tra l'altro ah commoner gladiator noi abbiamo fatto gladiator quindi ganzi ah c'è anche l'obiettivo ossia guadagnare 100.000 di di fama per la libertà posso anche rerollare e c'è anche tutti i tratti questa cosa qui non l'avevamo caccata di striscio prima che figata porca miseria e calgarix verrà da cagliari tra l'altro oltretutto comunque è una figata sto gioco porca miseria eh proviamo un rerollino giusto per vedere come funge rivedendo di scaricami l'eirloom solo investe gold you amassed previously ah ok ah perché gli eirloom quindi se io accettavo quella scarpa da pezzente di merda mi rimaneva poi nelle run successive quindi lo trovavo qui l'investimento e l'eirloom mi rimanevano qui se rerollo perdo tutto mmm si c'è anche il challenge level ah come slave siccome è uno slave come backstory scollo si prende il 50% del dell'oro che guadagno minchia cos'era l'al lino cos'era sì l'obiettivo è la libertà noi siamo completamente nudi con lui mentre queste mi rimangono no rumanum fuckers fighissimo eh in early access può diventare veramente figo sto gioco eh ha già una bella profondità made with love by jordy faris eh l'obiettivo è proprio la figlia si bello bello alla fine ex anima non lo proviamo neanche stasera anche se credo che sia un pochino ispirato ex anima questo qui che abbiamo provato ed è fatto solo da una persona questo è veramente figo anche l'altro che abbiamo giocato the king's dilemma è veramente figo genere molto diverso però hanno quella prosecuzio che mi piace quell'evoluzione del gioco che mi piace un sacco perché ti fa creare una storia è bellissima l'altro te la racconta più che te la fa creare per carità però questo qui te la fa te la fa proprio creare è fighissimo per carità fosse fatto facessero sti cazzo di giochi investissero su sti cazzo di giochi le le case tripla perché questo qui secondo me è un gioco che con il dovuto perché c'ho dei graffi nel braccio quando quando merda me li sono fatti scusa le battaglie ma se le avevo prima quando me li sono fatti non ho fatto niente di rischioso strano misterioso sembrano graffi di gatto un pochino sì ma non ho gatti qua domani dalla cria a farmi graffiare da jd svolta horror forse perché non ho fatto la doccia strano avete notato qualcosa di strano durante la live voi qualcosa che si è mosso particolare sadana peccato peccato non saperlo peccato non saperlo amici direi che possiamo fermarci qui io devo vedere ancora mastership forca puttana non l'ho scordato ieri non l'ho guardato vabbè ci vediamo domenica mattina nella moca va bene domenica mattina faccio alle 9 nel canale di gatto con me carim e gatto facciamo il podcastino molto interessante sempre interessante mi sto gasando un sacco a farlo oppure ci vediamo domenica sera non con me in realtà io non ci sarò ci saranno marco egliezzar che ascoltano tutte le canzoni di sanremo dalla prima edizione ad oggi così per vedere come è stata l'evoluzione musicale italiana va bene buonanotte a tutti ci si vede quando ci si vede insomma ci si vedrà in un momento non